Il giovane è controllato dai maz, che rappresentano i suoi padrini. Sono riconoscibili da una striscia rosso-ocra sul viso decorata con pallini bianchi. Il colore trasforma questi volti dai tratti somatici belli e regolari in fantastiche maschere. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Il colore di QTSS Il colore di QTSS Il colore bianco è il più usato, forse perché sulla pelle scura risalta maggiormente, rendendo i disegni o le impronte più definite. Il colore di QTSS Il colore di QTSS